Apriamo un'altra pagina di questa nostra serata, abbiamo il premio, il premio imprenditori, gli imprenditori salentini che ci affiancano in questo grande, grandissimo evento. La fondazione Notte di San Rocco di Torre Paduli vuole dare un simbolico riconoscimento a quegli imprenditori che hanno fortemente sostenuto e creduto nei progetti, nel lavoro della fondazione sul territorio salentino e non ultimo nella realizzazione di questo concertone, imprenditori che vogliamo ringraziare e riconoscere per la loro valenza e la loro storia. Chiamo sul palco Antonio Pappadà di ACG Calzature, eccolo qui, Mario Vecchio, giornalista di Collepasso, eccolo Mario. E ancora, ne abbiamo altri? Luca Zanata di Lioness che ci raggiunge. E vorrei chiamare anche a fianco a me l'assessore Pasquale Gaetani e l'assessore Massimo Cantoro che consegneranno i premi a questi imprenditori che si sono distinti e che ci affiancano nella realizzazione del nostro concertone. Antonio Pappadà, ruffanese DOC. Bene, puro sangue, si respira o no un momento di rilancio dopo la terribile crisi del settore TAC, tessile, abbigliamento e calzature? Prendiamo un microfono per il nostro Antonio, prego. Buonasera a tutti, grazie. Prima di rispondere alla sua domanda vorrei ringraziare chi mi ha invitato su questo palco, dal dottore Pasquale Gaetani a Cesare Verne Leone. Per quanto riguarda la sua domanda, sì, diciamo che uno spiraglio si sta vedendo, anche se è molto lieve ancora, c'è tanto da fare, c'è tanto da lavorare e tanti problemi da risolvere ancora. Però il futuro lo vediamo abbastanza migliore, diciamo. Dai, la sua azienda ha anche impegnato ormai i suoi figli e rappresenta una continuità per un futuro migliore o no? Diciamo che sono loro il futuro, io sono qui per ritirare il premio a nome loro più che altro. È difficile fare impresa oggi nel meridione? Molto difficile. Bene, consegna il premio ad Antonio Pappadà, il tamburello autentico di Torre Paduli che arriva su questo palco, il tamburello dell'artigiano Rocco Luca che ringrazio, ringraziamo, che è qui presente nella piazza di Torre Paduli anche questa sera. Rocco Luca è lì, nel suo gazebo e lo consegna il nostro assessore Pasquale Gaetani. Grazie. Bene. Mario Vecchio, di Collepasso. Eccolo qui. Buonasera a tutti, buonasera. Allora Mario, che cosa possiamo dire noi di questo momento così difficile per le imprese salentine? Sì, è un momento difficile però ovviamente bisogna sempre poi ingegnarsi nel momento in cui ci sono delle difficoltà. Fortunatamente noi lavoriamo, noi parco acquatico splash, ovviamente lavoriamo in un settore che grandissima crisi non la conosce nel periodo estivo perché lavoriamo con il turismo. E quante persone vengono allo splash? Sono tante, fortunatamente, fortunatamente sono tante e abbracciamo un bacino d'utenza che non riguarda soltanto il Salento ma riguarda un po' tutta la Puglia e le regioni limitrofe. Siamo orgogliosi di questo, apro una piccolissima parentesi che è più che doverosa. Io sono qui a ritirare questo premio con grandissimo piacere ovviamente in quanto direttore di questa struttura, però mi preme sottolineare che la persona che ha ideato, ha avuto la genialità ben 28 anni fa di realizzare il parco acquatico splash è Pantaleo Scollato con la sua famiglia. Scollato che purtroppo è venuto a mancare nel mese di gennaio, quindi io credo che sia opportuno ricordarlo fortemente perché ha avuto davvero un'idea straordinaria. Detto questo, che diciamo Rosario? Che diciamo? Vogliamo premiarti Mario, premiarti con il tamburello autentico di Torre Paduli che ti verrà consegnato sempre dalle mani del nostro assessore Pasquale Gaetani. Grazie, grazie assessore, grazie di cuore. Bene, non ultimo, resta qui con noi Mario perché non ultimo Luca Zanata, Buonasera a tutti. Eccolo qui, responsabile di Lioness Italia. A proposito, le state facendo le schede, è vero? Che cos'è Lioness, Luca? Lioness, permettimi di risponderti con una domanda, avete mai affatto acquisti oggi? Sicuramente sì in uno di questi fantastichi posti. Lioness è tre anime in una sola azienda, una comunità di acquisto, voi qui tutti siete una comunità di acquisto e per questo Lioness, riunendovi poi nei due nostri, come posso dire, chioschi, le nostre ragazze possono spiegarvi, regalandomi una card e ottenere dei vantaggi, ritorno di denaro ad ogni acquisto che fate presso le aziende convenzionate. Ho sentito parlare, vado un po' a braccio, perdonami, di crisi, come sentite dal mio tipico accento salentino di Treviso, giusto? Vicino Venezia. Anche da noi abbiamo sentito la crisi per motivi diversi. Lioness è qui e ha sposato la fondazione per essere presenti e dare una mano proprio a voi imprenditori che date da lavorare e date la possibilità a ognuno di voi di stare meglio. Quindi, partendo dal risparmio ad ogni acquisto e cercando di essere utile a voi imprenditori per attirare nuova clientela e fidelizzare la vostra clientela, quale occasione migliore di questa bellissima manifestazione per riuscire a trovare un incontro tra clienti e aziende e far del bene al territorio? La nostra ambizione è quella di aiutarvi. Parliamoci e vedrete che troveremo qualcosa di entusiasmante. Luca, ma come si fa a creare una vera e propria comunità ad acquisto? Si comincia ricevendo una card completamente gratuita da un amico o da un'azienda convenzionata. Si cerca in un'app, in un sito, per il passaparola, dove poter fare i propri acquisti e ricevere denaro ad ogni acquisto. A quel punto gli imprenditori convenzionati o persone come me che si occupano di creare una rete di aziende nel territorio saranno ben felici di spiegarvi come ottimizzare il tutto. E qual è il ruolo della fondazione Notte di San Rocco di Torre Paduli in una galassia grande proprio come quella di Lioness? Il ruolo è proprio quello che vediamo qui davanti a noi. Riunire tante persone, tanti imprenditori lungimiranti che sposano una causa e quindi cercare di fare del bene per il proprio territorio e, perché no, con il passaparola in tutta la nazione o tutto il mondo. Due parole sull'azienda. Lioness nasce nel 2003 in Austria, dall'idea del nostro fondatore Uber Friday, è presente in 47 paesi nel mondo e 5 continenti. Conta più di 6 milioni di aderenti nel mondo e più di 300.000 aziende convenzionate e cresciamo di 400 aziende piccole e medie, quindi non le solite enormi che già ci sono, ogni mese. Per cui veramente parliamoci e vedrete che saranno grandi soddisfazioni per tutti. Quindi i benefici di Lioness si vedono sul territorio? Assolutamente, assolutamente. Si vedono nelle tasche dei clienti perché settimanalmente ricevono denaro, non solo punti o quant'altro, ad ogni acquisto che loro fanno e nei fatturati delle aziende che se lavorano correttamente, cioè per il bene del cliente, aumentano i loro fatturati e fidelizzano la loro clientela. Luca, noi ti ringraziamo. Ringrazio, io voglio di cuore. che l'assessore Massimo Cantoro consegnasse il premio, il tamborello autentico di Torre Paduli a Luca Zanata di Lioness. Mi raccomando, con l'invito di fare le tessere, le card, sono assolutamente gratuite. Una a destra e una a vostra a sinistra, naturalmente era specchiato. E poi ci sono tutte le osse a disposizione, le ragazze, gentilissime, che vi spiegheranno tutto quello che volete. Come funziona? Assolutamente. Bene, Luca ti ringrazio, grazie all'assessore Gaetani, all'assessore Cantoro, Mario Vecchio, ci rivediamo, buone vacanze e quello che rimane, speriamo in un futuro sempre migliore per le nostre imprese salentine. Viva lo Splash e viva Ruffano con il suo settore calzaturiero rappresentato qui alla grande da Antonio Pappadà. Un grande applauso ai nostri imprenditori. Grazie a tutti, complimenti. Grazie ragazzi, grazie. Grazie. Grazie.